Buona e santa giornata a tutti, ben trovati, buon martedì. E nel nome del Signore che vogliamo sempre iniziare e sotto il suo sguardo misericordioso, ricco d'amore, di misericordia, di grazia, di perdono che vogliamo commettere le nostre vite, quelle dei nostri cari, delle nostre famiglie, degli ammalati, dei bisognosi, dei sofferenti. E anche, ecco, la nostra Italia e il mondo intero, in questo momento assai particolare. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo i nostri angeli custodi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri defunti, diciamo, l'eterno riposo donna loro, Signore. Esplenda adesso la luce perpetua, riposini in pace. Amen. Adesso vi dono la benedizione. Poi, ecco, vi chiedo questa mattina una cosa particolare. Se c'è una persona che secondo voi ha bisogno di pregare e di ricevere un pensiero, mandate questo link. Fatela pregare. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona e santa giornata a tutti.